Come ti chiami? Ripalta di Palma Gianluca di Giovine Chi sei? Moglie, madre ed educatrice Marito, padre e insegnante di storia e filosofia Con chi e perché ti candidi? Mi candido con il dottor Domenico La Sorsa e mi candido perché vorrei una città, un paese a misura di bambino vorrei una città con più spazi adibiti a giochi, al verde dove favorire il processo di integrazione, di socializzazione tra le famiglie, tra i bambini e proprio come una madre cura e tutela verso i propri figli e la propria famiglia vorrei che così anche noi avessimo cura e tutela di tutto il nostro territorio soprattutto verso l'ambiente e il sociale Mi candido con il dottor Domenico La Sorsa perché ne condivido il progetto, la serietà e l'onestà della persona e mi candido anche per continuare a lottare attraverso le istituzioni contro le povertà materiali, culturali e educative che colpiscono e segnano il nostro territorio Ma lo sa tuo marito? Lasciamo stare E tua moglie? No Ma dove? Ma chi ci dice a migliere? Non Grazie a tutti.